Ciao, io sono Francesca Martinelli e sono un home stager e un agente immobiliare. Ho conosciuto Paolo Marciliano un annetto fa grazie alla collaborazione professionale che ho insieme a Mirna Casadei e quando ho saputo di questo corso, di questa nuova modalità di video marketing immobiliare, non ho potuto fare altro che abbracciare con gioia questa modalità perché è proprio come piace a me, è facile, è usabile sin dal primo momento. Appena terminato il corso potrai anche tu realizzare dei fantastici video immobiliari per poter promuovere i tuoi immobili. Sostengo Paolo perché è un docente fantastico, è veramente un uomo con una grande presenza scenica ed è anche un ottimo e un grande professionista. Grazie Paolo dell'opportunità che ci dai e che ci hai dato di poter raccontare ancora meglio le nostre case. Grazie, ciao! Grazie a tutti!